Da mercoledì scatta in Toscana il QR code per gestire le quarantene a scuola. Il nuovo sistema sveltirà la gestione dei tamponi sia dal punto di vista della prescrizione che del referto e della comunicazione. Da dopodomani dunque, se ci sarà un caso di positività all'interno di una classe, il dirigente dell'istituto scolastico comunicherà la lista di tutti i compagni dei professori a rischio, cioè quelli che sono stati almeno quattro ore nell'aula del positivo alla prevenzione delle aziende sanitarie. Lo stesso dirigente inoltre invierà una mail agli alunni o ai loro genitori per avvertirli dell'accaduto. Dal sistema informatico regionale partirà quindi un ulteriore messaggio per le famiglie con due allegati, cioè il QR code dei due tamponi, quello da fare immediatamente e quello da fare dopo cinque giorni. Gli studenti potranno fare il tampone rapido sia in farmacia che dai medici di famiglia o dai pediatri o nelle strutture delle aziende sanitarie convenzionate con il loro codice. L'operatore lo registrerà con l'app messa a disposizione dalla regione prima di fare l'esame. A quel punto, quando arriverà il risultato, tutti i dati verranno trasmessi automaticamente sia alla ASL che alla scuola e ovviamente allo studente. Con il nuovo sistema si spera quindi non solo di semplificare la procedura ma anche di accelerare le risposte. In base alle nuove indicazioni, se in una classe un alunno o un professore risultano positivi, tutti gli altri che frequentano non devono andare necessariamente in quarantena. Se i tamponi rivelano che non ci sono altri infettati, tutti possono tornare a scuola. Poi dopo cinque giorni viene eseguito un'ulteriore testa di controllo. Se si trova un secondo positivo restano a casa tutti coloro che non sono vaccinati, mentre chi ha completato il ciclo può tornare a lezione. Se invece i casi diventano tre, allora scatta la didattica a distanza per tutti, vaccinati e non. Un modello, quello toscano, che sta tirando l'attenzione di altre regioni che hanno chiesto istruzioni all'assessore Bezzini.